Una passione da Serie A è quella dei tifosi del Bari, nota per l'affetto che il capologo pugliese sa tributare alla sua squadra, confermata dai numeri esibiti dal calcio italiano nelle prime due giornate di campionato. Per il debutto casalingo nella Serie B 2022-23 della squadra allenata da Michele Mignani, venerdì 19 agosto nell'1-1 contro il Palermo, erano infatti presenti al San Nicola ben 35.377 spettatori, un record per la categoria negli ultimi sette anni che fa addirittura del box office dello stadio di Bari il settimo dato, sommando Serie A e Serie B, dei primi 180 minuti di campionato. Il primato è di San Siro con i 71.212 per Inter Spezia e i 70.197 a corsi per Milan Udinese. Sul podio c'è poi lo stadio olimpico di Roma con i 60.859 tifosi sugli spalti per la sfida tra i giallorossi allenati da Giuseppe Murigno e la Cremonese. A seguire ecco Lazio-Bologna 44.664, Juventus-Sassuolo all'Allianz Stadium di Torino con 38.725 tifosi e Napoli-Monza con i 36.559 presenti allo stadio Diego Armando Maradona, distante poco più di mille unità. Ecco Bari-Palermo. Numeri registrati in una notte storica per il San Nicola che ha rubato l'occhio con un nuovo manto erboso, oltre 50.000 nuovi seggiolini bianco-rossi, ledwall di ultima generazione, 268 innovativi corpi illuminanti al ritmo di musica nel pre-partita. Non sono mancati, è vero, i disagi agli ingressi, in particolare nelle due curve, per responsabilità debitabili da quanto emerso nel post-gara all'organizzazione delle forze dell'ordine nell'attività di controllo e prefiltraggio. Sappiamo che non tutto è stato perfetto e sappiamo anche che tutto è perfezionabile. È stato il messaggio di scuse del presidente bianco-rosso Luigi De Laurentiis, rivolto ai tifosi. Intanto, il numero uno del club di strada Torrebella si gode la presenza nella top ten provvisoria del tifo, completata da Fiorentina Cremonese con 34.461 spettatori presenti, Sampdoria-Juventus-Amarassi con 27.573 e infine Salernitana-Roma seguita allo stadio Arecchi da 26.006 tifosi. A impressionare ancora di più è il dato riferito ai paganti, considerando circa 7.000 abbonati, numeri che pongono Bari ancora distante da piazze come Palermo che ha superato quota 10.000 e Genova-Sponda-Rosso-Blu con quasi 20.000 sottoscrizioni. Sono stati infatti oltre 28.000 i paganti per la sfida al Palermo, testimonianze di una città che aspettava da tanto troppo tempo la Serie B e che potrebbe alimentare ulteriormente l'entusiasmo con la coda di calciomercato. Dopo l'arrivo dello sloveno Zuzek in difesa, che sembra già essersi ambientato al San Nicola, si attendono un rinforzo in attacco e uno a centrocampo, mentre il direttore sportivo Ciro Polito è anche alle prese con la sistemazione di esuberi, quali Celiento, Perrotta, Mazzotta, Bianco, Derisio, Scavone, Marras e Paponi.